Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione, buongiorno anche chi ti segue in streaming sul sito www.nettunotv.tv Vi rinnovo gli auguri per un buon inizio di 2019, oggi 2 gennaio 2019, rassegna stampa di questo giovedì. Ben ritrovati da Giacomo Bianchi, una rassegna stampa che apriamo come sempre leggendo le prime pagine dei quotidiani bolognesi, poi andremo all'interno dei quotidiani e poi tutto quello che riguarda anche i quotidiani nazionali. Partiamo dal resto del Carlino che in fotonotizia di prima pagina dedica la prima notizia appunto al primo nato a Bologna nel 2019. Lo sprint di Samuele è il titolo, il bambino è venuto alla luce in casa, il papà ha assistito alla mamma in attesa che arrivasse il 118, il fratellino intanto era nell'altra stanza, tutto è accaduto intorno a mezzanotte e mezza di ieri mattina. Nel taglio alto si fa il bilancio di Capodanno, festa grande per 25 mila persone e poi il bilancio dei feriti, un petardo scoppia nella mano di un ragazzo che dunque rimane ferito. Controlli intensificati, spray al peperoncino vietato, nessun disordine in piazza, musica invece fino alle 6 al Parco Nord, i residenti sono infuriati, dicono così non è tollerabile. Nel taglio laterale si parla della marcia per la pace che è scattata ieri, è avvenuta ieri, presente anche l'arcivescovo di Bologna, sua eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, dice la solidarietà deve guidarci. E poi la lettera di Malagò, Bologna capitale del baseball, indotto che porterà a fari d'oro la città di Bologna e poi ancora la cronaca, montagnola presi i baby pusher che spacciavano in via Irnerio. Nel taglio basso invece si fa il bilancio per quello che riguarda sequestre e denunce, la polizia locale, sempre più social, 200 chiamate al giorno. Nel frattempo anche lo sbarco su Twitter con oltre 1000 messaggi condivisi. Il Corriere di Bologna invece in primo piano titola ancora in merito al Capodanno, più piazze a Capodanno, sono le parole di Matteo Lepore, assessore alla cultura, allo sport e alla promozione della città. Dice Lepore, presenza ok, ma solo per la sicurezza abbiamo speso 70.000 euro. Il veglione è stato promosso, il sindaco l'oda era e l'assessore dice replicheremo il format della danza. E poi ancora sul Capodanno, il primo nato è nato in casa e invece in Riviera festa e denunce con una turista che dice mi hanno violentata, una turista francese dice di essere stata violentata a Rimini. Merola poi nel giorno della festa del primo dell'anno, in occasione della Marcia della Pace, dice mettiamo noi i soldi dell'accoglienza. Gli ripresenta anche il sindaco alla Marcia della Pace insieme all'arcivescovo Matteo Zuppi. E poi la fotonotizia di prima pagina riguarda invece lo smog. Nuova emergenza, Bologna invece per ora respira. Blocchi in molte province per quello che riguarda l'inquinamento. L'ARPA dice ecco perché la collina ci salva nella città di Bologna. Prima pagina invece di Repubblica, si parte con la Marcia per la Pace e i mille con Zuppi per la Pace. Ora via quei sacchi di sabbia. Il vescovo ieri in marcia con Merola, città Dalla e Loda Morgantini. Dice non chiudetevi nell'egoismo. Foto notizia dedicata poi al Veglione di Capodanno. Il Capodanno diviso tra due piazze, il Crescentone in festa ma fuori invece è ressa per quello che riguarda la gestione fuori dal Crescentone. E poi ancora il 2 agosto, Picciafuoco dice rifiuta i 3 miliardi per collaborare e rievoca la strage. Se ne parla a pagina 6 e poi le altre notizie all'interno di Repubblica Bologna. L'Emilia tradita, qui di politica non si parla più. E poi ancora, 40 anni dopo, 12 artiste in pista per la donna Circo. E lo sport in Zaghi avrà i rinforzi ma non può fallire la sfida con la Spal Bologna che aspetta in questi giorni a ore, anzi l'arrivo di Soriano e di Sansone che saranno presto annunciati dal club Rosso-Blu. Andiamo all'interno delle pagine dei quotidiani. Partiamo proprio dal resto del Carlino che dedica pagina 2 e pagina 3 al bilancio di Capodanno. 25 mila persone in piazza, 100 operatori di polizia, carabiniere e guardi finanza sono stati impiegati per l'accesso a Piazza Maggiore. E invece il bilancio dei feriti. Parla di 25 cittadini che hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, la maggior parte per aver bevuto troppo. Il bilancio dei feriti, appunto, oltre a questo dato che arriva dalla sanità, esplode un botto, 19 anni ferito alla mano e per quello che riguarda invece la situazione al Parco Nord, musica a tutto volume, fino alle 6 al Parco Nord, i residenti dicono che è una situazione intollerabile. Il primo nato del 2019 è Samuele a Bologna, ovviamente, nato nel salotto di casa, è venuto al mondo 32 minuti dopo la mezzanotte il racconto di mamma Antonietta intervistata. Dal resto del Carlino sono stati portati al Maggiore, mi sono accorto di aver rotto le acque, mio marito ha chiamato il 118, gli operatori lo guidavano, poi sono arrivati anche gli infermieri. E poi ha un altro bilancio, notte da record, 7 le nascite al Maggiore, al Sant'Orsola è nata una bimba di quasi 4 chili e a Roma, invece, dal Policlinico della Capitale, la mamma e Bolognese, nascono però due gemelle, ovviamente, romane. Per quanto riguarda ancora il Capodanno, cresce il fatturato nei ristoranti, Ascom dice bene locali e negozi di alimentari e per confesercenti sono andate molto bene l'attività della provincia, vola anche il commercio online. E poi un bilancio con gli ultimi scatti del 2018, code da McCurry, mostre ed eventi presi d'assalto, all'Hotel Carton una serata con Enzo Iacchetti e poi tante foto in giro per la città e anche le foto degli operatori. Da partire dai carabinieri, i vigili del fuoco, la centrale del 118 e anche la polizia, tutti in allerta, in attesa appunto di eventuali chiamate che poi effettivamente sono arrivate nel corso della notte. Andiamo a pagina 7, lo sport e non solo, possiamo dire così perché a Bologna sarà capitale europea del baseball in questo 2019. Malagò, il presidente del CONI, scrive al sindaco Merla e dice in autunno le qualificazioni olimpiche collaboriamo. L'asse con il CONI, sono già previste le finali di Coppa dei Campioni di baseball, sempre in arrivo anche il pre-Tokio 2020. Il torneo internazionale dovrebbe tenersi in città tra il 22 e il 26 settembre per quello che riguarda appunto le qualificazioni olimpiche in vista di Tokyo 2020. Pagina 9, il 2019 in cammino, titola il resto del Carlino, si riprendono poi le parole dell'arcivescovo, non siamo egoisti, difendiamo la pace. Sono le parole di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi che ieri insieme al sindaco Virginio Merla e anche a Roberto Morgantini, Yasin Laframmi, il presidente degli islamici e altre mille persone, dicevamo delle autorità più illustri presenti, ha partecipato l'arcivescovo alla marcia per la pace che da piazza 8 agosto è arrivata in piazza maggiore. Il titolo appunto è Non siamo egoisti, difendiamo la pace, l'appello di Zuppi alla marcia a cui hanno partecipato più di mille persone. L'arcivescovo dice non riempiamo di sacchi di sabbia la finestra ma apriamoci agli altri. Presente anche il sindaco Virginio Merla che dice Salvini tagli i fondi per i migranti, li mettiamo noi, nessuno si sentirà abbandonato all'interno di Bologna e nella nostra città. Queste sono le parole del sindaco Merla. L'anno che verrà tra pagina 10 e pagina 11, il resto del Carlino riporta una serie di anniversari che verranno festeggiati nel 2019, tra questi anche i mille anni. Nel 2019 le reliquie dei Santi Vitale Agricola sono traslate in una rinnovata cappella nel complesso di Santo Stefano e poi tutti gli altri avvenimenti a partire appunto da quello che accadeva nel 2019 fino ad arrivare al 1999 quando Giorgio Guazzaloca della lista civica è eletto sindaco di Bologna, primo sindaco non comunista del dopoguerra a Bologna e poi ci sono tutti gli altri avvenimenti che festeggeranno le cifre pari, diciamo dai mille passando per i 600 fino ai 70 e i 20 che riguardano appunto la città di Bologna. Cittadino Cronista, ancora una volta il resto del Carlino dedica una pagina ai cittadini che notano delle criticità in città in via Zanolini un addobbo alternativo con una bicicletta circondata, diciamo così, da addobbi non propriamente natalizi e poi le invasioni di biciclette sul marciapiede, sul parco dei Cedri, tante lemo bike presenti all'interno del parco però sul marciapiede e poi in via Mascherino bidoni e immondizie diffusi per la strada vicino ai cassonetti della spazzatura e poi poche polizie per le feste nella zona di Borgo Panigale e questo è quanto riporta il Carlino sulle notizie che arrivano appunto dai cittadini. Il bilancio della polizia per il 2018 è sempre più social, un 2018 di novità, la municipale cambia nome e va su Twitter. 200 chiamate, tante sono quelle ricevute in media ogni giorno da URP e riparti territoriali, si fa il bilancio appunto a pagina 13. Pagina 15 si parla invece di lavoro, coinè l'addio al precariato per 27 persone, la svolta con il nuovo anno, tutti assunti a tempo indeterminato. Intesa con i sindacati, sulle stabilizzazioni a parlare è Gianluca Barletta di SLC-CGL che dice migliorato quanto previsto nel contratto integrativo, continuiamo a batterci per garantire più tutele. Queste sono appunto le parole di Barletta. A pagina 17 la cronaca, Montagnola presi i baby pusher, due sedicenni e un diciottenne gambiano nei guai per spaccio. I tre sono stati fermati sotto al portico in via Irnerio. Dopo la stretta sul parco, la vendita di marijuana si è spostata di pochi metri e dunque adesso bisogna fare attenzione, la polizia fa attenzione anche a tutto quello che riguarda la zona circostante, la Montagnola e in generale la zona della stazione. 2 agosto, Picciafuoco potrà testimoniare il processo a Cavallini, la perizia dice depresso ma lucido, forse in aula già il 19 di gennaio. Andiamo anche in provincia dove il resto del carino fa un bilancio di quello che è Bologna e provincia in merito a redditi e invecchiamento. È Ozzano, l'isola Felice, la provincia fragile nei confronti, nei dati appunto della città metropolitana. L'indicatore sintetico di potenziale e fragilità, viene definito così questo dato, è ottenuto come sintesi di tre indicatori di potenziale, fragilità demografica, sociale ed economica. I calcoli sono effettuati in base a dei punteggi non arrotondati e appunto viene rappresentata la mappa della provincia di Bologna dove l'indicatore appunto passa da un potenziale fragilità bassa in giallo chiaro a una potenziale fragilità invece molto alta in marrone scuro. La zona più chiara sono tra Zola Predosa, Monte San Pietro, Castenaso, Granarola e Castelmaggiore, quelle più scure invece Monghi d'Oro, Castiglione, Camugnano e via di seguito tutto quello che riguarda in modo particolare la parte montuosa. Casalecchio, il mercato perde gli angeli custodi, l'ultimo servizio di vigilanza a Bazzano per i volontari dell'ANC. Il presidente Cazzoli dice siamo troppo anziani per questa attività ma stiamo pensando di fare altre cose. E poi ieri passeggiata per gli auguri per il gruppo Malini e volontari di Casalecchio nel cuore a piedi o in bici il nuovo anno inizia in movimento a Casalecchio di Reno. Sono pronto a candidarmi di nuovo sono le parole del sindaco Tinti che a Castel San Pietro fa un bilancio di mandato ed esce allo scoperto. E per quello che riguarda San Lazzaro, troppi soldi destinati al teatro dell'Argine, i 5 Stelle puntano il dito contro il bilancio comunale, è contrario a Silvia Fava del Movimento 5 Stelle che dice i cittadini pagano due volte perché laboratori e spettacoli hanno tutti un costo. Andiamo avanti ancora per quello che riguarda la provincia. L'anno finisce con una rapina, banditi al bar della stazione, è successo a San Giorgio, l'altra sera il blitz di due uomini armati di pistola e poi ancora sindaci che si ricandidano a Molinella. Il sindaco Dario Mantovani annuncia che correrà per il bis. Sono tre liste pronte a sostenermi, mi ricandido le parole appunto di Mantovani. E poi ancora in montagna la Rocchetta Mattei, gli aspiranti maghetti sulle tracce di Harry Potter, grande successo per l'appuntamento dedicato ai bambini con tanto di festa di fine anno proprio alla Rocchetta Mattei. Andiamo a vedere anche l'interno del Corriere di Bologna che parla della Marcia della Pace a pagina 3, presente anche l'arcivescovo Matteo Zuppi, presente il sindaco Virginio Merola. Merola è l'accoglienza, il sindaco dice il Viminale taglia i fondi, il resto lo mettiamo noi. L'annuncio è arrivato alla Marcia della Pace, consolideremo gli Sprar, dice il sindaco. Bilancio di Capodanno che vede i 25 mila persone in piazza, facciamolo in più piazze, è l'invito di Lepore che dice si potrebbe fare in diversi luoghi ma la sicurezza ha costi troppo alti. Aitini dice invece troppo aveto per strada, è quello che riguarda il bilancio della notte di Capodanno. Anche il Corriere di Bologna dedica un articolo al primo nato a Bologna, è Samuele che nasce in casa nella zona della barca, poi trasferita all'ospedale maggiore con i genitori per tutti i controlli del caso. Blocchi lungo la via Emilia, cambiamo argomento a pagina 5, è quello che riguarda l'emergenza smog. Blocchi lungo la via Emilia ma Bologna per ora è salva. Sono 18 gli sforamenti nel 2018 nella stazione di Porta San Felice, nonché il numero massimo rilevato a Bologna. A pagina 7 e a pagina 6 si parla ancora di cronaca, a pagina 7 l'archivio comunale viene approfondito e studiato, è raccontato in questo articolo firmato Francesca Blesio, un viaggio nella nostra storia. In via Tartini sono raccolti documenti amministrativi di Bologna, ci sono quasi 3600 metri quadri di faldoni e carteggi antichi. Paola Furlan dice un tesoro insostituibile per la conoscenza e la consapevolezza del nostro patrimonio civico, queste sono le sue parole. Preghiere laiche contro le droghe, una sera con i narcotici anonimi, ex tossicondipendenti e alcolisti si trovano il lunedì in una parrocchia di periferia, viene raccontato questa storia appunto nell'articolo di pagina 6 sul Corriere di Bologna. A pagina 9 si parla invece di economia, piccolo e bello anche nel packaging, la filiera dietro alle big dell'export tra Bologna, Modena e Ferrara sono oltre 300 le imprese con al massimo 10 addetti. E poi la cronaca, ancora i nuovi cervelli dell'Ateneo e la quarta puntata, diciamo così, l'alchemist che riprodurrà gli esperimenti dei babilonesi. Matteo Martelli, storico della scienza, userà il suo premio da 2 milioni per capire l'antica arte alchemica, sono questo e questo è il suo obiettivo raccontato a pagina 8 sul Corriere di Bologna. E poi lo sport a pagina 10, in Zaghi la panchina per ora è congelata, è fatta per Sansone e Soriano, l'attaccante e il centrocampista arrivano dal Villareal, si tratta poi per Ogbonna e Rispoli. Il tecnico deve confermare la sua fiducia nella partita contro la Spal, verrà esonerato, riporta il Corriere di Bologna nel caso dovesse andare male contro la Spal, per i nuovi arrivi invece l'arrivo è previsto in prestito con diritto di riscatto. Nel 2019 sarà un anno di grande sport a Bologna, si partirà il Giro d'Italia da Bologna, poi ci sarà l'Europa Under 21, il Baseball con la Coppa dei Campioni e poi il Football, il Bullying e i 110 anni del Bologna FC nato nel 1909. Quest'anno festeggerà il 110 anniversario di nascita, il 110 compleanno, la squadra Rosso-Blu. Il basket invece a pagina 11, infortuni e poco gioco, la Virtus non decolla e ora si ripensa al mercato, la fortitudine invece è al bivio, gennaio sarà un mese cruciale per la promozione in serie A1, previsti infatti due scontri diretti, uno contro Verona e l'altro contro Treviso, entrambi al Palladozza. La Repubblica di Bologna, pagina 2 e pagina 3, si fa anche in primo piano su Repubblica e il bilancio del Capodanno, brindisi per 25 mila persone. I due volti della piazza, numero chiuso, balli e festa sul crescentone, petardi e vetri per chi è rimasto fuori, l'assessore Aitini dice l'anno prossimo allergheremo l'area controllata. 25 mila le persone che appunto hanno girato per il centro della città, tra le piazze, le strade e i locali, centinaia di controlli che sono stati fatti, perquisite le borse per evitare che entrassero botti e sprayer il peperoncino. 25 sono stati feriti, molto contenuto dunque il numero, la maggior parte come dicevamo per eccesso di alcol e una a 19 anni invece si è ferito alla mano con un petardo. E poi si parla anche del primo nato, Samuele, del 2019, Samuele è venuto alla luce a mezzanotte e 32. Merole e Zuppi invece a pagina 3, alla marcia per la pace, la città ha una marcia in più. Oltre un migliaio di persone presenti all'iniziativa, il sindaco dice se lo Stato è avaro, Bologna non smetterà di essere solidale. Ieri c'è stata poi anche la messa del primo dell'anno, la messa per festeggiare la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. L'arcivescovo di Bologna ha tenuto un'omelia nella quale ha parlato di politica e di pace. L'abbiamo trasmessa in diretta su Nettuno TV, allora andiamo a sentire un estratto delle parole dell'arcivescovo nel corso dell'omelia. Non smettiamo di cercare il fiore fragile della pace e cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Ed iniziamo noi ad essere uomini di pace e a vivere la buona politica. Oggi più che mai le nostre società necessitano di artigiani della pace. È una possibilità offerta a ciascuno. È una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. Cerchiamo pace con noi stessi, rifiutando l'intrasigenza, la collera e l'impazienza, dice Papa Francesco. Cerchiamo pace con l'altro, familiare o straniero che sia, osando l'incontro, dando fiducia e ascoltando il messaggio che porta con sé. Cerchiamo pace con il creato, riscoprendo, dice Papa Francesco, la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell'avvenire. Attore dell'avvenire. Ecco, così il nostro volto sarà luminoso e darà pace. rifletterà quella benedizione di Dio che invochiamo all'inizio di questo anno e il nome di ognuno di noi, in quanto nome di cristiano, sarà un nome di pace. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Il Signore ci doni di riflettere questa pace, ci conceda la pace, ci doni di essere artigiani di pace per tutti, per il nostro futuro, per il futuro di coloro che verranno dopo di noi. Amen. Queste dunque le parole dell'Arcivescovo, andiamo a vedere ancora il Repubblica Bologna. Pagina 4 si parla di politica. La PD al voto da lunedì, per scegliere il leader, il test è sull'affluenza. Dopo gli appelli dei dirigenti a tornare ad appassionarsi, le urne finalmente danno voce ai militanti. C'era una volta l'Emilia Rossa, ora la politica non piace più. L'inchiesta, il dossier, approfondito a pagina 5, un rapporto della Regione segnale il crollo della partecipazione. Meno fondi ai partiti, addio incontri e dibattiti. Piccia a fuoco, rifiuta i 3 miliardi per collaborare. E' il racconto di Sergio Piccia a fuoco, con a fianco un'immagine della stazione il 2 agosto del 1980. Ho già pagato per il 2 agosto, tanto carcere, ma da innocente. Vero, quel giorno ero in stazione a prendere un treno per Milano. Queste sono le sue parole. E poi la economia, e in un certo senso anche la cronaca. Le aziende bolognesi in borsa, un 2019 di forti investimenti. A parte Unipolsai e Bion, tutte le quotate hanno perso nel 2018, che è stato un anno orribile. E ora preparano il rilancio, se ne parla appunto a pagina 7. A pagina 8 e a pagina 9, ancora lo sport. Quelli, l'unico Rebus, la Befana porta una Virtus intera. Pronti Aradori e Martin, forse anche Brian Cuoli per lo sprint verso le Final 8. Ma il varco in questo momento è strettissimo. E poi il calcio, Inzaghi torna a giocarsi tutto contro la Spal. Sansone e Soriano sono in arrivo, poi anche altri rinforzi. Ma non è detto che sarà Pippo ad usarli. Serve prima un risultato utile a Ferrara. E poi la lettera firmata Gianluca Morozzi. Sì, caro Gioi Saputo, se sei Babbo Natale è ora di dimostrarlo, questo articolo che è di questo scrittore e tifoso del Bologna, Gianluca Morozzi. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal resto del Carlino nazionale, eccolo qui, che titola Tariffe e multe è già stangata. Aumenti 2019, un conto da 914 euro a famiglia. L'auto nel mirino, tasse, da ieri è in vigore anche la fatturazione elettronica. A Bologna il primo bimbo è nato in casa, 32 minuti dopo la mezzanotte. Il bilancio del Capodanno parla di 25 mila persone in centro, con un ferito per un petardo esplosogli in mano. La fotonotizia del resto del Carlino, il titolo è La guerra dell'arte. Ike Schmidt, con una coppia del vaso di fiori di Jan van Jussum, il direttore degli uffizi, dice ai tedeschi ridateci la tela rubata dai nazisti. Se ne parla a pagina 2 e a pagina 3. Arriva il reddito di cittadinanza a versione light. La cronaca politica a pagina 7, riportata sul taglio laterale della prima pagina del resto del Carlino nazionale. e poi i paletti del colle. Mattarella contro la politica dell'odio, dice serve rispetto. Nel taglio basso una sonda NASA sull'asteroide più remoto e usa pazzi per il western all'italiana. La riscoperta, quello che riguarda lo spettacolo, se ne parla a pagina 25. Corriere della sera, i nuovi richiami di Mattarella. Basta insulti e astio sulla manovra, verifiche e controllo. No alle tasse sulla bontà. Boom in televisione del discorso del presidente la sera del 31 di dicembre. E boom anche sui social, dice ancora Mattarella. La sicurezza nasce dalla convivenza, Salvini dice condivido. La fotonotizia di prima pagina del Corriere della Sera riguarda il presidente del Brasile, Bolsonaro, che si è insediato ieri a Brasilia. Fogli e canti, in Brasile parte l'era di Bolsonaro. Ieri in questa fotografia ha riportato la macchina che lo ha condotto a Brasilia a fare il giuramento e la sfilata con la moglie Michelle. La politica italiana, la linea dura del Movimento 5 Stelle, tensioni e quattro espulsi, incontro sulla neve tra Di Maio e Di Battista. Nel taglio basso a Pompei rivive la scuola dei gladiatori. Da domani riapre il sito crollato nel 2010. L'ultimato, dunque, riguarda l'ultimato, infatti, il lavoro di recupero degli affreschi. Se ne parla a pagina 36. La prima pagina di Repubblica riguarda la politica italiana. In primo piano, Mattarella sfida Movimento 5 Stelle e Lega. No all'odio serve più dialogo. Reddito nella bozza di decreto previsto anche per gli stranieri. Intanto nasce il duo Di Maio e Di Battista. Anche la Repubblica dedica la fotonotizia di prima pagina al nuovo presidente del Brasile. Bolsonaro va sul trono. Trump festeggia ieri in marcia, appunto, in auto con la moglie Michelle. Nel giorno dell'insediamento a Brasilia, il presidente di estrema destra. Nel taglio basso il direttore degli uffizi dice Ecco perché rivolgo il quadro rubato a Firenze dai nazisti. Eric Schmidt mostra, di fatto, una copia del quadro che rivorrebbe indietro. Andiamo a vedere la prima pagina anche della stampa. Subito scontro fra Salvini e Di Battista. I grillini dicono taglio allo stipendio dei parlamentari. Immediato no della Lega che invoca il contratto. Maggioranza rischio dopo l'espulsione del Movimento 5 Stelle. E poi tutto il resto sulla stampa a partire dall'intervista a Monti. In questi vent'anni l'euro ci ha protetti. Adesso rafforziamolo. E poi l'autostrade congelano gli aumenti sul 90% della rete. Nel taglio laterale, foto notizie di prima pagina. Ancora la foto di Bolsonaro che fa partire la nuova era in Brasile. Dice, cambio il Brasile, sono l'uomo del destino. E poi Hong Kong scende in piazza contro la Cina di Xi. Viviamo in una prigione. Se ne parla a pagina 2 e a pagina 3. Nel taglio basso, poi, le neuroscienze confermano. Il gioco delle tre carte è l'inganno perfetto. E Cipriani, temo che il ticket, serva per pagare il Mose. La supertassa per entrare a Venezia viene commentata da Arrigo Cipriani. Patrono dell'Harris Bar, 86 anni. Portati con lucida baldanza, come scrive la prima pagina della stampa, dichiara la propria contrarietà al ticket d'ingresso di Venezia. Andiamo anche su quello che riguarda avvenire e poi lo sport nel quotidiano sportivo. L'impegno di tutti per fare comunità. Papa Francesco dice, ognuno è responsabile del bene comune, la politica non solo dei governanti. Il presidente Mattarella, riportate anche le sue parole sulla prima pagina di avvenire, la sicurezza si costruisce rispettando ogni persona e non con la paura. La fotonotizia di prima pagina di avvenire è dedicata all'Odissea di Capodanno. 49 vite lasciate a bagnomaria, i governi non aprono i porti ai migranti salvati dalle navi delle ONG. Se ne parla, appunto, in primo piano su avvenire all'interno del quotidiano. Il quotidiano sportivo, poi quello che riguarda lo sport, si parte con il mercato e in primo piano il QS riporta subito la foto di Sansone. Trampolino Bologna è lui il primo rinforzo per il Rosso Blu e in arrivo a Casteldevoli insieme a Soriano entrambi cercano un rilancio sia personale ma anche del Bologna, un rilancio che passerebbe proprio dalla salvezza. Il 2019 di Cristiano Ronaldo, poi sempre in prima pagina sul QS, la Champions e il Portogallo sono i buoni propositi del campione della Juventus e poi la Ava in vacanza da Totti e Icardi dove vanno i campioni del campionato italiano. Si parla di mercato, Milan-Cesk ci siamo, Juve su De Ligt, i rossoneri chiedono lo sconto al Chelsea e cercano una punta, i bianconeri vogliono la ciliegina per andare alla conquista dell'Europa. E poi il pallone rotola al caldo, mezza Serie A si rilassa a Dubai, gli Icardi vanno in Argentina, Nainggolan festa in famiglia a Cagliari e poi tutto il resto dei giocatori della Serie A italiana riportati in questo articolo. Ronaldo dice tutto per la Champions e torno in nazionale e poi il 2019. Fatto di sport, le immagini, le cartoline di quello che succederà nel 2019 a partire dalle Final Four di Coppa Italia a Bologna per la pallavolo maschile fino ad arrivare anche ai campionati italiani Primavera Reggio Emilia e il Giro d'Italia che partirà l'11 maggio proprio da Bologna, da San Luca. Operazione di rilancio, specialità del Bologna, andiamo su quello che riguarda i Rosso Blu. Sansone e Soriano presto a Casteldebole, anche loro cercano riscatto dopo mesi da dimenticare. Don Sasso, ogni anno tutto nuovo, l'infortunio e il ritiro gli ha impedito di giocare un solo minuto fino a questo momento, potrebbe essere lui un altro colpo di mercato del Bologna interno, diciamo così, per l'inizio del girone di ritorno. La Virtus e il mercato, Young o Jefferson per proteggere il canestro, giocano da Bellino e Cantù e possono liberarsi. La fortitudine invece, l'arma del gruppo è la maturità per Antimo Martino. Il tecnico può preparare con serenità la trasferta di domenica a Roseto nella quale ancora una volta mancherà Stefano Mancinelli. Chiudiamo con il tennis d'autore, la sfida dei 43 slam premia Federer. Roger batte la Williams nel doppio misto, ma che colpo il servizio di Serena. Tennis d'autore, un evento unico alla Hopman Cup con la vittoria di Roger Federer. Questo è quello che riguarda lo sport, noi adesso facciamo un piccolo break pubblicitario, a rientro, continuiamo la nostra rassegna stampa con i quotidiani di Bologna, i quotidiani nazionali e ancora tutto quello che riguarda lo sport. A tra poco.